Ehi, Vincenzo, ti piacerebbe giocare a calcio? No, mi dispiace Alberto. Non posso. Perché non puoi? Perché devo andare da qualche parte. Dove stai andando? Devo andare dal dentista. Quando torni? Torno tra un'ora. Ok, ti aspetto al campo da calcio. Quanti siete? Siamo nove, dieci con te. Chi c'è? Ci sono i ragazzi della nostra classe. Come Roberto, Filippo, Cristiano. E ci sono anche altri amici. Va bene. Ci vediamo tra un'ora.